Abbiamo appreso, attraverso le dichiarazioni della holding che gestisce strada dei parchi, autostrade A24-A25, di investimenti fatti anche al di sopra di quello che avrebbe previsto il Ministero. E allora come stanno le cose, Augusto De Santis? Loro sostengono di essere addirittura dei benefattori, noi però siamo sommersi di immagini anche date dalla stampa di ponti con i ferri scoperti. Loro dicono di aver fatto gli interventi previsti dalla Convenzione, però poi c'è la realtà che ci dice che c'è una condizione sicuramente inaccettabile. Poi da chi dipende? Che erano stati previsti pochi fondi per la manutenzione? E allora forse va rivisto questo aspetto. I controlli sono stati fatti dal Ministero Infrastrutture? Ci risulta che per esempio nel 2013 da Roma non sia partito nessuno, nessun omino, ad andare a verificare se i 26 milioni all'anno che bisogna spendere secondo l'accordo, come sono stati spesi. Se è stato tutto a posto, comunque qualcuno ci dovrà spiegare perché quei ponti sono in quelle condizioni sicuramente non accettabili per una grande infrastruttura, ma neanche per una piccola. Poi sul fronte del pieno degli investimenti che sarebbero da garantire per una infrastruttura di quel tipo, voi nutrite dei dubbi? Più che dubbi noi abbiamo fatto accesso agli atti al Ministero e non ci vogliono dare le carte. Partono male gli enti che non vogliono assicurare la trasparenza, perché non è che noi andremo là chissà a fare cosa, a leggere i documenti, però qualcuno non ce li vuole far leggere. Di solito è strano, perché se non ci sono problemi, perché non far leggere ai cittadini che pagano quei pedaggi clamorosi per strada dei parchi da molti anni? Quindi, insomma, non è possibile che esistano, peraltro, nelle poche carte che abbiamo potuto leggere, erano previste entro il 2013 due aree di servizio a Rocca Casale, vicino sul Mona. Perché non sono state fatte? Hanno avuto l'autorizzazione a non farle da parte del Ministero delle Infrastrutture? Benissimo, allora con quale motivazione? Noi vogliamo anche incalzare il Ministero delle Infrastrutture, perché evidentemente questa infrastruttura, crediamo, possiamo dirlo in poche parole, non ha una gestione come noi ci aspettiamo, sicuramente. E questo vedremo se è in capo al concessionario, in capo al MIT, al Ministero delle Infrastrutture o in capo a entrambi, o non credo che sia il destino cinico e baro.